Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare un po' dei vipittali. Sono rientrato, sono rientrato, ho attraversato mari e monti per poter essere di nuovo a casa, ci ho impiegato praticamente mezza giornata, sì perché ho lasciato la fiera che saranno state circa le 2-2 mezza, di lunedì sono rientrato a casa a mezzanotte. Treni, spostamenti, scali, aereo, soprattutto aereo, hanno portato a un lungo viaggio, a un lungo rientro, però alla fine sono estremamente soddisfatto anche se estremamente stanco. La fiera per me è stata una grandissima esperienza, è stato veramente bello, ho avuto la possibilità di incontrare un sacco di amici, un sacco di amici che seguivo, che frequentavo diciamo così online, perciò nei vari social piuttosto che in chat e quant'altro e c'è stata finalmente l'occasione di incontrarci personalmente. Tantissime persone sono venute a salutarmi, ne ho contatto almeno 5 o 6, perlomeno 5 o 6 che mi hanno detto E tu sei Vaperant? Una cosa incredibile la prima volta, mi hanno chiesto anche delle foto. Sì qualcuno si è anche fermato, ma guardate mi ha fatto, ma tu sei Vaperant? Facciamo una foto? E' stata una sensazione incredibile per me la prima volta. Logicamente il mio canale è piccolissimo, c'è gente che ha molti più iscritti che a fine serata invece ho la nausea delle foto. Un giorno arriverò anche io a quello e vi prenderò la testata, essendo sardo, sì mi chiederete delle foto, perciò approfittatene adesso, approfittatene adesso che mi trovate in buona. Andando un po' più su concreto, su quello che invece è stato il Vapitali, come sapevate, come vi ho detto e come ho vlogato tempo fa, ero stabile, ero nello stand di Benz, perciò ho avuto la possibilità di incontrare tanta gente. Insieme a me c'era Luigi Furlotti, famosissimo DJ Set. DJ Set è una persona fantastica, così come lo vedete in video. E' così nella vita, nel senso che è pacato, è bravo, è cortese, soprattutto cortese è gentilissimo. Mi ha consigliato anche qualche diritta su qualche configurazione, mi ha fatto vedere anche il suo hardware. E' stata un'esperienza veramente bella? E' stata un'esperienza bella anche stare lì, nello stand della Benz. Ho avuto la possibilità di interfacciarmi con tantissima gente, molte persone che sapevano che ero là, si sono avvicinate, come dicevo prima, a salutarmi, è stato veramente molto bello. Ho avuto anche la possibilità di, stando al contatto logicamente con Claudia Baldini, piuttosto che il padre Roberto e tutti quelli che fanno parte della famiglia della Benz, di conoscere un po' più da vicino il mondo del vape che sta dall'altra parte, cioè dalla parte dei produttori. Anche quello è un mondo affascinante, un mondo particolare, fatto di tantissime sfaccettature. E' una cosa che se non la si vive forse è difficile capirla. Gran parte del tempo l'ho passato con BoboTube, che sicuramente nessuno conosce, è un canale piccolissimo, poco più di 3000 iscritti. E' proprio uno che sta iniziando. Dai, gli sto dando una mano per cercare di iniziare ad avviare un po' meglio il suo canale YouTube. Piano piano, dai, ci sta riuscendo, complimenti Bobo, stai facendo un ottimo lavoro. Continua così, vedrai che arriverai un po' anche ai miei livelli. Logicamente non ci sperare che risultati come i miei arriveranno così velocemente, però tu abbi pazienza che prima o poi qualche soddisfazione anche tu la riceverai da questa vita dura. Un'altra persona con cui ho avuto veramente piacere di stare, una persona con cui mi sono divertito tantissimo, una persona con cui ho condiviso veramente tanto, mi devi un casino di soldi brutto stronzo, è Leo. Leo Danieli. Leo Danieli, anzi, Leo, e che cazzo? Leo, lo conoscete sicuramente perché l'avete visto sicuramente tante volte con me, tante volte con me in alcune delle sue dirette. Cioè, lui era auspite all'interno delle sue dirette nel suo canale con me. È una cosa un po' particolare, però lui ci teneva a farlo e io sempre sono dispostissimo ad aiutare il prossimo, soprattutto se lo vedo in difficoltà. Tra i grandi non poteva mancare Enrico. Enrico, logicamente, Jonas Vapo è un ragazzo estremamente bravo. Ha un unico difetto, il milanese se la tira tantissimo. A me inizialmente mi ha dato del terrone, però diciamo che fondamentalmente poi dopo che ha capito che potevo anche dargli un colpo di testa, nonostante lui sia più alto di me, allora è diventata una persona estremamente garbata. Garbata ma anche gentile. A parte gli scherzi, logicamente Enrico, anche lui è una persona estremamente gentile. È molto cortese ed è molto 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 alla mano. Molto di più di Bobbo e Leo che fondamentalmente loro se la tirano e basta. Senza motivo aggiungerei. Ho incontrato anche Miss Vapo, ho incontrato anche Giulietta da Verona. Giulietta da Verona mi ha sorpreso, nel senso che anche lei credevo fosse, non dico distaccata dai suoi fan, per carità, assolutamente no, ma credevo che considerato che ci sono tanti hater che gli danno addosso, pensavo che magari un po' rimanesse nella difensiva, diciamo così, magari sempre un po' in dubbio con chi gli parla. Invece no, anche lei è estremamente gentile, anche lei è estremamente disponibile, ha fatto anche un video con me, qualche cosa adesso la vedrete, vi mando direttamente il video. Un video velocissimo, ragazzi, non vi ho fatto le solite riprese degli hardware, delle box, come ho fatto la volta scorsa, perché avevo la possibilità, ho avuto la possibilità di fare qualche piccolo sketch, qualche piccolo video con queste persone che sono mirando adesso, perciò diciamo che questo piccolo video alla fine lo dedico a loro più che all'hardware, che secondo me è una cosa più importante di questo Vip Italy. Da tutte le persone che poi ho incontrato, che però non ho avuto modo di fare grandi discussioni, però mi ha fatto veramente piacere conoscere, è stato innanzitutto Blow Svappo. Dire su Blow Svappo che forse è l'unico veramente alto tra tutti gli youtuber che trattano di svappo, mediamente gli youtuber, ho scoperto con grande felicità, hanno ben o mai la mia altezza, sono pochi quelli che superano l'1,70 e lui è uno di quelli, comunque è una persona estremamente cortese, anche lui è gentilissimo, e poi mi ha fatto ridere veramente tanto, è veramente simpatico. Non posso non nominare i ragazzi di Vip for Patience che ancora non lo sanno, ma io con loro purtroppo, cioè loro lo sanno, io con loro non sono riuscito a fare un video, cioè loro l'hanno fatto con me, che hanno preso la camera e hanno fatto il video, io li ho salutati perché ero un attimino incasinato e non sono riuscito però a fare il contrario, poi cioè non ho preso il mio telefono e gli ho detto ragazzi facciamo un filmino, facciamo un video, di conseguenza loro ancora non lo sanno, io adesso vado nel loro video, gli porto via il pezzo dove ci sono anch'io, perciò ho i diritti su quel pezzettino del loro video e lo incastro all'interno del mio, spero che non me ne vogliate. Poi ho conosciuto Tony che è un modder che sta iniziando adesso, ha realizzato la sua prima box in allumine, si chiama Rogue Fog, non vi dico niente perché quella box ha una particolarità, a breve ne faccio il video e ve la farò vedere nel dettaglio così non vi anticipo nulla. Un'altra persona che non posso assolutamente non nominare è Muras Vapo, Muras Vapo Daniele, dai, Daniele praticamente ha iniziato anche lui col suo canale YouTube e con diversi gruppi su Facebook a farsi conoscere anche lui nel mondo del vape. Ha iniziato da poco un progetto, sta realizzando una box, anche lui sta cominciando a entrare diciamo nel mondo dei modder e ha realizzato un prodotto veramente carino, veramente eccezionale, a me me l'ha fatto vedere in anteprima, sicuramente a breve lo vedrete in giro perché è già l'ultima batch, ci sta lavorando veramente da tanto la costruzione di una box, ok, che sia in allumine, che sia in legno, che sia in quel che volete, è un progetto che se fatto bene richiede tantissimo tempo e Daniele c'è dietro parecchi mesi, non vorrei dire fesserie ma mi ha parlato della sua box o comunque che aveva intenzione di progettarla già sei mesi fa, perciò pensate quanto tempo ci vuole a realizzare solo il primo batch, perché comunque va analizzato ogni singolo particolare, va curato in ogni dettaglio e qui Daniele sta facendo un ottimo lavoro, a breve vedrete dei suoi lavori e sicuramente sarete d'accordo con me che sono estremamente validi. Chiudere la carrellata di tutte queste persone che ho conosciuto, anche se per carità io sono sicuro che qualcuno me lo sono dimenticato, spero non me ne voglia, comunque devo dedicare questi ultimi due minuti a Ivan Zetta, Ivan Zetta che è in arte e poi non è altro che svapoirito, lui è una persona strepitosa ragazzi, Ivan Zetta è veramente una persona gentile, io la devo proprio ringraziare, è stato estremamente cortese con me anche se non mi conosceva, ci siamo sì visti qualche volta in qualche diretta, ci siamo sì conosciuti anche per chat, però personalmente come tanti altri non abbiamo avuto mai modo di conoscerci e diciamo che è stato come se ci conoscevamo da sempre, è una persona veramente alla mano, mi ha aiutato, mi ha anche dato dei passaggi per spostarmi a Verona, logicamente essendo arrivato in aereo non avevo la possibilità di spostarmi, perciò mi raccomando se non conoscete svapoirito andate e iscrivetevi, sono sicuro che logicamente tra voi saranno pochissimi quelli che non lo conoscono, però se ce n'è anche uno o due mi raccomando andate anche nel canale di Ivan Zetta, andate su svapoirito e iscrivetevi anche al suo canale. Detto questo un ringraziamento sentito a Roberto Baldini, a Claudio Baldini per la possibilità che mi hanno dato, chiudo con un saluto generale a tutte quelle persone, a tutti gli amici che sono venuti a salutarmi, vi lascio adesso a questo piccolo video che ho fatto che ripeto non sarà il solito video delle vetrine e delle box, perché tanto di cui ne vedrete tantissimi, non sarà altro che un piccolo collage di saluti reciproci tra me e le persone che ho incontrato e che ho conosciuto. Quindi vi saluto e noi ci vediamo sempre e comunque in un prossimo video. Ciao a tutti! Che cosa succede? Succede che siamo al Vapitali di Verona 2017 e il nostro carissimo youtuber Vaperant ci riprende davanti al bar, ma questo non conta. Per questo motivo che trovate questo nelle mani, allora quest'anno il vostro Vaperant recensirà un liquido che si chiama Hashtag D77 Round, che è stato il mio primo liquido, non dirò di cosa sa perché ve lo dirà lui, direi che possiamo andare allo stand di Vaporarte così ti regalo la prima scatola. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale di Vaperant, se non vi è piaciuto fate come cazzo vi pare, un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un saluto agli iscritti di Vaperant. Un saluto a tutti coloro che seguono il canale Vaperant, non è ricco a dirvi di iscrivervi Vaperant. Iscrivetevi al canale di Vaperant. Ciao ragazzi di Vaperant, sono addormentata stamattina allucinante e c'è un po' di gente qua. Vapita di 2017, sia un casino allucinante, spero che tanti di voi siano riusciti a venire a Verona. Ci vediamo comunque sempre nel prossimo video. Iscrivetevi al canale di Vaperant. Il Bobo vi saluta e come sempre il nome della scimmia Zagasiga Magugaga. Iscrivetevi al canale di Vaperant. Iscrivetevi al canale di Vaperant. Iscrivetevi al canale di Vaperant.